Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, drammatico episodio all'interno di una vetreria valdarnese, un uomo di 52 anni, dipendente dell'azienda, è deceduto mentre si trovava sul posto di lavoro. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Terra Nuova Bracciolini, sul posto un'automedica del Valdarno, insieme all'ambulanza di San Giovanni, è attivato anche l'elisoccorso, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto. Indagano i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno e è intervenuto anche il personale del PISL della ASL. Si sono tenuti oggi i funerali a Prato della giovane mamma morta sabato pomeriggio a Figline Valdarno, travolta da un'auto in retromarcia. La vittima si chiamava Martina Breschi, originaria di Prato, ma viveva con il marito all'estero in Germania. Aveva però un legame con il Valdarno Aretino, tanto che la seconda casa dei genitori del marito doveva ospitare la festa per il battesimo della figlia Martina. Era appena arrivata dalla Germania dove viveva Martina Breschi, la giovane mamma travolta ed uccisa sabato pomeriggio dall'auto della suocera in retromarcia nel centro di Figline, comune del Valdarno Fiorentino. A bordo dell'auto c'era anche la figlia di appena due anni. La 31enne assieme al marito viveva all'estero, era però molto legata al Valdarno Aretino. La seconda casa dei genitori dell'uomo nel comune di Castelfranco Pian di Scò avrebbe dovuto ospitare la festa per il battesimo della piccola che si sarebbe dovuta tenere proprio ieri. La tragedia è avvenuta in un parcheggio del centro storico in piazza Serri Stori. La giovane era scesa per aprire il porta bagaghi quando l'auto, guidata dalla suocera di 66 anni, l'ha investita mortalmente partendo in retromarcia per cause in corso di accertamento. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari arrivati sul posto dove sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno informato il pubblico ministero della Procura di Firenze. In base ad una prima ricostruzione sembra che la vettura fosse dotata del cambio automatico e si sarebbe mossa in lieve discesa. La salma della giovane è stata riconsegnata ai familiari per i funerali che si sono svolti nella chiesa di Sant'Agostino a Prato, città originaria della mamma 31enne. Nelle scorse ore anche il comune di Castelfranco Piendisco ha espresso il cordoglio per quanto accaduto. Interpellati profondamente da questa prematura scomparsa, si legge in un post social, vogliamo unire alle condoglianze i sentimenti di solidarietà condivisi da tutti i cittadini del nostro comune. Aveva contatti con cellule integraliste islamiche, sospetto terrorista scoperto in un rifugio di Arezzo. L'episodio risale all'inizio dell'estate. Un quarantenne nordafricano è stato identificato appunto alle porte della città grazie all'intervento di un imam. Quando lo hanno notato si trovava in un rifugio di fortuna nella zona di Salleu. La vicenda, come dicevamo, è ormai di qualche mese fa, ma l'episodio che al momento non aveva fatto scaturire particolare preoccupazione, alla luce ovviamente di quanto invece avvenuto negli ultimi tempi, ovviamente con l'attentato anche di Bruxelles, è un fatto che risulta indubbiamente inquietante. Torniamo a parlare dei furti agli orafi. Dopo il colpo alla multiform sale l'allarme appunto nella categoria di pochi giorni fa, l'intervento del presidente della consulta orafa e degli artigiani, Luca Parrini, che oggi noi abbiamo sentito. C'è già stato un incontro, un confronto con il prefetto di Arezzo che si muoverà verso il governo centrale. Ecco presidente, voi siete già intervenuti con un comunicato, il confronto con il prefetto per quello che sta accadendo c'è già stato? Sì, il prefetto e il questore conoscono benissimo le esigenze del nostro territorio e noi vorremmo assieme a loro portare queste esigenze a chi può intervenire veramente, al governo centrale. Sono loro che possono dedicare forze e mezzi sul nostro territorio che non può essere trattato come un territorio di pari numero, di pari superficie nella nostra regione e nel nostro Stato. Noi deteniamo, bontà nostra, quantità importanti di materiale prima, di metallo prezioso e per questo motivo chiaramente siamo negli ultimi sei mesi stati attenzionati da più furti, da più tentativi anche che non sono andati a buon fine. Ecco voi dite diamogli meno tempo perché l'ultimo colpo alla Multiform si è concretizzato in 15 minuti, quindi una banda assolutamente, addirittura una decina di malviventi, che sa cosa fare, sa come operare, dove e con quali modalità. Come si fa a dargli meno tempo? Decisamente noi mettiamo nelle nostre aziende i migliori presigli di sicurezza, i migliori cassaforti, i migliori sistemi d'allarme, i vari presigli che sono in nostra disposizione. Però chiaramente c'è bisogno, come dicevi tu, che l'intervento delle forze dell'ordine sia più rapido possibile perché chiaramente la resistenza è quella che è e in questi casi dove sono veramente dei professionisti che fanno questi furti serve che loro non abbiano il tempo materiale per effettuarli. Ecco quindi noi sappiamo benissimo che nella nostra provincia ci sono due auto che intervengono durante la notte, che è il punto più sensibile, dobbiamo cercare di aumentare uomini e mezzi. Anche perché l'alternativa sarebbe la vigilanza privata e ovviamente frugarsi in tasca. Non vorremmo implementare queste cose perché noi siamo al fianco delle istituzioni, non vogliamo denigrare il loro lavoro, però chiaramente è importante che ci tuteliamo. Ecco quindi molte zone industriali stanno prendendo queste iniziative e è la loro disponibilità e è giusto che lo facciano. L'ultima cosa, poi ecco il colpo che lo ricordiamo tutti, insomma la Diamond ci fu un sequestro di persona. Lei ha detto che il nostro valore più grande è a casa, quindi si pensa ai figli, alle moglie, alle famiglie. Che ci stia lontana più possibile questa eventualità perché veramente sarebbe un salto di qualità veramente troppo forte. Insomma i colleghi ancora ne subiscono le conseguenze di un'operazione del genere, quindi ecco non vorremmo mai che diventassero delle cose ripetitive, ma veramente noi confidiamo nell'aiuto delle istituzioni che non potranno fare a meno di starci accanto. Arrestato dalla polizia con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ieri gli agenti della squadra volante sotto la direzione del vicequestore Marco Gallorini sono intervenuti in via Vittorio Veneto ad Arezzo all'altezza del Bar Europa, dove era segnalato appunto un uomo che in evidente stato di agitazione stava lanciando oggetti in strada e rovesciando dei cassonetti. Una volta bloccato se l'è presa anche con le forze dell'ordine, tanto che un agente ha riportato lesioni guaribili in tre giorni. Immobilizzato è stato poi portato in questura, arrestato e appunto denunciato. E' stato portato in ospedale a Siena in gravi condizioni. Un trentenne è rimasto ferito nel corso della nottata a seguito di un incidente in via Vittorio Veneto. L'uomo stava viaggiando a bordo di un monopattino ed è caduto per cause in corso di accertamento intorno alle 22. Sul posto un'automedica di Arezzo, un'ambulanza della Misericordia, il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale delle Scotte di Siena. E ieri ad Arezzo l'esercitazione di protezione civile. In questo momento stiamo simulando lo scenario di un allagamento improvviso della linea ferroviaria che collega Arezzo al Casentino. Allagamento improvviso che ha costretto il conducente del treno a fare una manovra di arresto rapida e a seguito di questa manovra alcuni passeggeri del treno sono rimasti feriti. Allagamenti, fiumi esondati e un incidente ferroviario. Così ad Arezzo è tornata l'esercitazione Prometheus che da anni rappresenta un appuntamento fisso per testare il sistema di protezione civile del comune di Arezzo. Il contesto simulato quest'anno è quello di emergenza meteo generato da forti precipitazioni e la conseguente esondazione dei torrenti minori tra cui il Gavardello a nord della città. Con questa simulazione andiamo a verificare tutte quelle che sono le procedure di accesso alle linee ferroviarie in caso di soccorso e oltre a questo a verificare tutte le catene di attivazione di tutti gli enti coinvolti. Quindi dalla prefettura alla protezione civile alle forze dell'ordine e anche alle sequenze interne di ogni singola centrale operativa. Andiamo a fare questo perché occorre ogni tanto verificare le procedure che abbiamo perché possono avere bisogno di essere modificate e revisionate ma anche per preparare tutto il personale che quotidianamente lavora nell'emergenza ad eventuali scenari come questo. È impiegato il 118 che adesso si chiama emergenza sanitaria vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine, polizia municipale, comune di Arezzo e soprattutto la prefettura che ha garantito il coordinamento di questa esercitazione. Un'intera strada chiusa per ragioni di sicurezza e un presidio delle forze dell'ordine domani ad Arezzo la presentazione del discusso volume Il mondo al contrario del generale dell'esercito italiano Roberto Vannacci volume al centro di accese polemiche accusato di contenere passaggi omofobi e sessisti. In previsione appunto di possibili contestazioni la questura ha disposto la chiusura della strada in via Leone Leoni perché il libro verrà presentato alla casa dell'energia di Arezzo intorno alle 20 e poi per tutta la durata della presentazione restrizioni che però non saranno valide per i residenti. E proprio domani, giorno indubbiamente non scelto a caso si trarà anche una conferenza stampa indetta da tante associazioni tra cui Arci, Acli, CGL, Ampi, Circolo Aurora e Circolo Berlinguer per presentare un video e una serie di dichiarazioni proprio in merito alla Costituzione. Cambiamo argomento e parliamo del mercato delle pulci che ieri ha segnato il suo record non solo di presenze ma anche di espositori e indubbiamente insomma come sempre vince la socialità. Direi che questa volta veramente vinto proprio la partecipazione attiva dei cittadini. Oltre 20.000 presenze 600 banchi e 400 in attesa i numeri del mercato delle pulci ormai sono questi degni di un grande mercato dell'usato come se ne trovano nelle più grandi città europee. A vincere in questa edizione forse più che nelle altre l'aspetto sociale oltre 20 le associazioni ospitate per le raccolte fondi dall'Associazione Diabetici a Rotary fino al gruppo social Sedia Rezzosè e tante altre. Sì vogliamo essere tra la gente perché vogliamo mandare il messaggio forte il Rotary Club è con la gente per la gente e lo strumento che vogliamo acquistare per l'ospedale è proprio per tutti per la comunità. Una donazione per il nostro ospedale per aiutare appunto le future mamme a partorire NAA? Assolutamente sì è come tra l'altro un sistema che non è nuovo ma che è molto apprezzato questo del parto in acqua è una joint venture chiamiamola così con il calcite perché è uno strumento che costa molto anche il nostro impegno è molto alto e da qui tutte le iniziative possibili per fare raccolta fondi. Ecco voi raccogliete fondi per l'Associazione Diabetici a Retini e ci diceva il vostro impegno è soprattutto sul fronte della prevenzione Assolutamente sì per noi la prevenzione è il motivo principale per cui ci stiamo nel senso che la malattia va saputa in qualche modo gestire e non è così semplice e in più prevenire le complicanze per noi è determinante perché con le complicanze veramente la situazione diventa molto molto più grave. E nonostante le app e l'e-commerce ormai votato anch'esso al mercato dell'usato in svariate forme il contatto umano evidentemente prevale. Ma infatti secondo me poi è veramente il valore aggiunto perché quelle app le usiamo tutti e nonostante questo siamo qui in presenza a fare quella stessa cosa. Quindi vuol dire che c'è l'incentivo a stare insieme non è tanto il vendere perché quello lo puoi già fare online ancora più facilmente mentre questa è una cosa faticosissima ecco e quindi ci diciamo sempre la gente se lo fa c'è un motivo ancora più profondo. Senti l'ultima battuta chiudiamo ti faccio girare usato ma non da te avete creato anche degli slogan attraverso i social hai creato davvero una grande famiglia Silvia? Sì perché non li abbiamo creati noi gli slogan ma anche in questo caso abbiamo chiesto la partecipazione dei partecipanti e poi abbiamo scelto più belli quindi c'è usato ma non da te usato ma non sono geloso usato ma buono insomma tante cose ma anche quello fatto con il coinvolgimento delle persone. Arezzo ha detto addio in queste ore a Isabella Droandi la notizia della scomparsa avvenuta lo scorso 21 ottobre ha commosso profondamente l'intera comunità retina storica dell'arte appassionata conoscitrice del passato culturale della città è stata ricordata in queste ore anche dalla fraternita dei laici la figura di Isabella ricorda il primo rettore Pierluigi Rossi è fortemente legata alla più antica istituzione cittadina per le numerose collaborazioni instaurate nel corso degli anni con lei Arezzo perde un grande esempio non solo di storica dell'arte ma soprattutto di operatrice della cultura innamorata della sua città la fraternita porge alla famiglia Droandi al marito Serzi Luigetti le più sentite condoglianze alle quali si uniscono ovviamente quelle della nostra redazione e ieri è venuto a mancare all'età di 87 anni Don Sergio Carapelli dal 92 al 2016 parroco di Sant'Agostino la parrocchia di Porta Sant'Andrea ne ha dato notizia proprio il quartiere Biancoverde Don Sergio si trovava a Pomaio di cui è stato parroco dal 1968 proprio ad oggi la camera ardente si trova nella chiesa di San Lorenzo in Pomaio dove mercoledì alle 15 saranno celebrati i funerali adesso prima di arrivare invece allo sport c'è un'altra allerta meteo emessa dalla sala di protezione civile per la giornata proprio di domani martedì 24 ottobre ancora forti temporali e rischio idrogeologico per tutta la giornata per il territorio intero della regione toscana siamo dunque allo sport partiamo con la bella vittoria davvero una grande soddisfazione per la BC Servizi SBA che ha battuto il Siena la partita era chiusa fondamentalmente poi l'abbiamo riaperta noi perché magari ancora non sappiamo gestire i ritmi della partita nei momenti chiave ma avevamo fatto un lavoro incredibile prima avevamo fatto cose nuove l'abbiamo buttata sulla tattica perché ad armi pari non puoi giocare contro Diminic o Lombardo o via discorrendo l'abbiamo buttata sulla tattica facendo zone press un po' alla giovanile ottima affermazione dell'AMMBC Servizi Arezzo che al Palasport Estra riesce a superare la stosa Siena arrivata da Arezzo con i favori del pronostico ma costretta ad arrendersi alla squadra di coach evangelisti sono state eccezionali i ragazzi più che altro perché l'abbiamo messa su in una settimana e sono riuscita a sbagliare pochissimo la fitta ancora 8 secondi è finita ci prova non va finisce fuori due secondi aspettano la Sba Arezzo per la vittoria della finale ma la Virtus vediamo finisce è finita la Virtus Siena esce sconfitta dopo può non essersi mai arresa la Sba vince questa partita sta soffrendo sta vincendo ma alla fine la porta a casa penso sia chiaro a tutti e l'obiettivo sia la salvezza visto le squadre e i roster che ci sono siamo una squadra penso una delle più giovani molti anzi forse nessuno quasi nessuno di noi ha giocato in Serie B sono al primo anno quindi penso che l'obiettivo sia chiaro a tutti l'obiettivo nostro personale è di far crescere questi ragazzi il più possibile per riuscire poi a giocarsela con queste corrazzate tipo Virtus Siena e raggiungere un livello simile a loro vicino a loro non è andata bene invece per i colori amaranto sul fronte del calcio femminile e purtroppo le ragazze appunto del rezzo calcio femminile sono state battute dalla Ternana arriva un'altra sconfitta per le ragazze amaranto dopo un'ottima partita giocata con grinta e determinazione contro la prima della classe la Ternana passa solo nei minuti di recupero finali nei 90 minuti l'Arezzo si è dimostrata squadra tosta organizzata in difesa sfiorando nel secondo tempo con Ploner il gol del vantaggio poi nel recupero la Ternana ha trovato il gol con Pirone un gol pesantissimo che consente al Rosso Verdi di mantenere la testa della classifica assieme alla Lazio rabbia no mai con questo gruppo di ragazze mai come puoi come puoi arrabbiarsi hanno dato tutto abbiamo già parlato hanno dato tutto ci hanno fatto orgogliosi oggi con tutto l'efforto hanno dato veramente tutto e quello ci fa molto piacere era il nostro il nostro game plan di limitarli soprattutto anche il primo tempo di limitarli ha solo un'opzione quindi questa palla lunga che vogliono trovare perché parliamo anche di una squadra che in quattro partiti ha fatto 18 reti in questa profondità penso che le ragazze hanno fatto un grandissimo prestazione in questo che abbiamo preparato ora sì di prendere un gol al 94 hai ragione è un po' difficile di accettare però no noi ora vediamo solo avanti alla partita contro San Marino penso che oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra che può stare in questo campionato e che può fare grandi cose perché abbiamo tenuto testa comunque una squadra che non ha perso punti e dispiace per gli ultimi minuti perché abbiamo fatto una partita di grande livello per tutto il resto del tempo secondo me purtroppo ci manca anche un pizzico di fortuna che ci permette di arrivare in porta e concludere e magari anche di evitare di prendere gol l'ultimo minuto è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese e attenzione e arrivederci